L'Udc, la misericordia di Pescara, raccolgono giochi per i bambini afghani rifugiati nel nostro paese e che oggi si trovano nell'interporto di Avezzano. Una iniziativa come tante della misericordia che ogni giorno fa solidarietà anche nelle nostre strade. Sì, la misericordia di Pescara, oltre a svolgere dei servizi di emergenza territoriale, saltuariamente effettua anche delle bellissime iniziative e da vita comunque a dei progetti a livello sociale che sono importanti. Oggi, vista la difficoltà dei bambini afghani e quindi sicuramente che si sentono smarriti in un momento di estrema paura, significa regalare loro un sorriso e regalare qualcosa in più. La misericordia è felice che aziende e privati si siano interessati e quindi anche in questo caso l'Udc a cercare appunto di dare maggiore serenità a tante piccole creature. È bello vedere Pescara che dimostra, come sempre ha dimostrato con l'aiuto della misericordia, che fanno un lavoro straordinario quotidiano, quello che siamo in grado di fare è dimostrare al nostro Abruzzo, dimostrare anche ai piccoli angeli afghani quello che Pescara è in grado di fare. Sicuramente un giocattolo non risolve un problema drammatico come quello che stanno vivendo oggi gli afghani, soprattutto i bambini che sono i più innocenti in assoluto. Ma magari aiuta a distrarre un po', aiuta a vivere un po' di normalità, forse quello di cui più hanno bisogno queste persone e soprattutto questi bambini. Noi nel nostro piccolo stiamo facendo questa raccolta che proseguiremo nei prossimi giorni. Come diceva giustamente Seraiocco, è un'iniziativa che deve coinvolgere tutti, i cittadini in primis che già hanno risposto in maniera egregia, gli imprenditori che stanno già dando un grosso riscontro. Estenderemo questa richiesta anche ai nostri colleghi politici perché proprio sia una raccolta super partes che sia soltanto per il bene degli altri. Su questo vogliamo essere assolutamente incisivi. Ringrazio la misericordia perché è sempre presente con il proprio aiuto per poter portare a termine ogni progetto che ha bisogno di braccia, di gambe e di cuore.